Scusa, sei Paolo? Sì, sì, sì. Paolo del viaggio... Sì, sono io. Ah, ok. Ciao. Ciao. Elisa, è un piacere. Che bello vederti. In che senso? No, dico, che bello vederti arrivare puntuale. Ah, certo. Solitamente le persone non sono così puntuali. Scusa, non è il tuo primo viaggio questo? Sì, sì, intendiamo in generale, come concetto. È vero. Le persone non sono puntuali, mentre invece quando si viaggia è meglio partire in orario. No, 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 io sono proprio precisa di mio, sì. Ti do una mano a caricare questo nel portabagaglio, ok? Ah, grazie. Non aspettiamo gli altri? Ma gli altri chi? Scusate. Tu sei Paolo? Sì. Paolo? Di Roma Gubbio? Paolo di Roma Gubbio, sì. Meno male. Scusate, ma mi sei rotta la macchina, devo andare a un matrimonio a Gubbio. Mi pare che ho trovato questo passaggio. Mi dispiace, mi dispiace tanto che... Anna, Elisa. Ciao. Paolo, no, dicevo mi dispiace, non è possibile, per questo è un viaggio per due, proprio. No, 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 ti sbagli. E no, non mi sbaglio, l'ho organizzato io il viaggio, scusami, eh. No, no, ti sbagli perché sull'app era libera la macchina, quindi... Ma non mi sembra proprio, scusami. E no, sì, qui dice che in tutto siamo in quattro. Hai visto? Ah. Perché se non blocchi l'app... Ah, quindi... ...donde si prenota. Cioè, ho sbagliato io, non ho bloccato... Eh, forse sì. Con la tecnologia non sono proprio un mago, capito, quindi... Eh, capita però, adesso sono qua, che mi lascia a piedi? No, 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 andiamo. Questa è la tua, no? Sì. Ti metto dentro la valigia? No, 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 faccio io, scusa, no, ti spiego, eh. C'è un motivo, perché siccome ho delle cose molto fragili in macchina, sì, devo sistemare io le valigie, così sto più tranquillo. Allora, questa qui... Hai traslocato, eh? Questa, sì, la mettiamo qui. Grazie. Perfetto. Eccoci qua, chiudiamo. Oh, ragazzi, il quarto non è arrivato, per cui andiamo, dai. Paolo? Paolo, giusto? Sì. Michele, perciò. Ciao. Ciao. Il quarto, immagino. Roma Gubbio. Roma Gubbio, sì. Sì, sì. Ok. Grazie. Vabbè, vi dispiace se io vado davanti, perché soffro la macchina. La seguo, ok? Sì. Vado... Magari... Ok, metto anche questo... Grazie. 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 Grazie.